Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amén. Che la pace sia come quello che è. E stasera celebriamo la memoria di un santo missionario. Credo di sapere che Antonio, che è nativo di Lisbona, visse al tempo di San Francesco e fu conquistato dall'esempio di San Francesco e voleva andare missionario in Marocco, dove Francesco d'Assisi mandato in sua vita. Grazie a tutti. 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 il frutto del tuo seno, Gesù. 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 Il frutto del tuo seno. Il frutto del tuo seno, Gesù. 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 Gesù. Il frutto del tuo seno, Gesù. Il frutto del tuo seno, Gesù. Il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie a tutti.